Gli appassionati e i soci del nutrito club castellano che pratica il nordic walking sulle meraviglie culinari sopra Montecchio Maggiore proprio non si capacitano dopo che ogni settimana per due o tre volte si ritrovano con cartelli di velchio imbrattati senza alcuna ragione, uno scempio della buona volontà altrui che si ripete ormai da mesi e che rientra nel cerchio del vandalismo con amministrazione comunale e polizia locale a caccia dei responsabili. Ad essere sti sematicamente presa di mira la serie di 11 percorsi segnati tra boschi e colli verdi dei castelli conosciuto dal 2017 come Nordic Walking Park, attrezzato da quasi 4 anni con 370 installazioni di segnaletica in metallo alluminio, costituisce oggi un'attrattiva per gli appassionati della camminata nordica con i bastoncini simili a quelli utilizzati da lisciatori. Un gruppo omonimo attivo a Montecchio Maggiore non riesce a darsi pace considerando che l'ampia area è impossibile da controllare, fermo restando l'assurdo dei danneggiamenti ad un bene della collettività che in tempi non pandemici vale anche come proposta sportiva a livello nazionale, proprio in una fase di particolare slancio di questa attività che abbina paesaggio, natura, benessere alla tecnica particolare che sfrutta la spinta dei bastoncini. Veramente non ci capacitiamo per questo accanimento contro la nostra segnaletica, spiega Silvano Bettega, fresco di riconferma come presidente dell'associazione. Lunghi percorsi avevamo installato più di 370 tabelle, molte di esse sono state rivelte, i danneggiamenti che sono da un paio di settimane e ci vengono segnalati prevalentemente da chi frequenta i sentieri. Sono così tanti che abbiamo smesso di comprare le tabelle sostitutive in alluminio, non abbiamo idea di chi possano essere i responsabili. Questi comportamenti sono deplorivoli e ingiustificabili, afferma il sindaco Gianfranco Trappola. Esprimo la mia solidarietà all'associazione Nordic Walking, chi danneggia il tracciato del parque danneggia la nostra città. Il danno alla fine ricade sulla promozione turistico-sportiva di Montecchio Maggiore, assieme alle forze dell'ordine, moltiplicheremo gli sforzi nell'individuazione dei responsabili.